Musica Benvenuti a tutti ragazzi qui è Teddy e benvenuti a un nuovo video Oggi parliamo del mio playoff bracket come vedete sullo sfondo Ovviamente io farò la spola a destra e a sinistra per far vedere i vari risultati Discutiamo solo del primo turno non di tutto il playoff bracket E comunque vi faccio vedere appena ho finito di parlare del primo turno Io sto registrando il 25 quindi voi vedrete questo video il 26 Di conseguenza Lakers, Clippers e Nets devono ancora giocare gara 2 Mentre invece i Bucks e i Nuggets o i Blazers hanno già giocato invece gara 2 Quindi parlerò delle prime due partite di Milwaukee-Miami Delle prime due partite di Denver-Portland Delle altre partite del primo turno Ma sappiate che Nets, Lakers e Clippers ancora devono giocare gara 2 Ok? Quindi questo è quanto Allora io direi prima di tutto di partire da dove sono Perché adesso voi vedete ovviamente dietro di me lo sfondo Però vi avevo detto che dopo la partitina golf a Washington Mi sarei spostato in macchine Dove sono andato? Sono andato a Milwaukee perché ho detto Cazzo, gara 2 Cioè una gara 1 immensa Spettacolare Alla Cream City, no? Che la chiamano la Cream City per il colore delle case, no? Dei mattoni E dici porca puttana Cioè nel senso Gara 2 Fuochi d'artificio Aipa 1000 Posto in prima fila Let's go Una delle due squadre A me non me ne frega un cazzo Tifo Lakers Quindi let's go lo sport Cioè La partita sarà durata forse La palla 2 Alla palla 2 Si era incerti su chi vincesse Dopo la palla 2 Finita la partita Praticamente I Bucks che vedevano una Non una vasca da bagno L'oceano atlantico intero Miami che non sapeva attaccare Non sapeva difendere Non sapeva stare in campo Miami completamente rullata Daimi il walkie Bucks Che sono scesi molto più Tosti in campo Poi Forbes nel primo quarto Che metteva ogni singolo tiro Cioè Veramente Se avessi giocato io Avrei segnato pure io Da legato Da legato Sdraiato per terra Avrei segnato pure io Ieri per i Bucks Allucinante Veramente una cosa Allucinante Quindi Direi che gara 2 È stata una sorta di Best case scenario Per Milwaukee E worst case scenario Per Miami Ovviamente Ai playoff Il tuo worst case scenario Non dovrebbe succedere Il tuo best case scenario Dovrebbe succedere Invece ogni singola partita Però devo dire che gara 2 Secondo me Non è valida Al fine di valutare Entrambe le squadre Perché è vero Miami secondo me È stata una squadra Sopravvalutata l'anno scorso Ha fatto la stagione della vita Un po' come il Leicester Io faccio sempre Faccio sempre questo paragone Perché è immediato Il Leicester di Ranieri Che vince la Premier Ma dopo la Premier Poi Cioè Non Non ha poi Non è più stata lì in alto A competere veramente Per il titolo Stesso discorso per Miami L'anno scorso nella bolla Cioè Creme della creme Jimmy Butter Versione Jordan Tyler Irro Che sembra Pareva Arden Secondo qualcuno Duncan Robinson Il miglior tiratore All time Adebayo The new Olajuwon Crowder Che pareva Pippen Insomma L'anno scorso Drogic Che è rimasto Drogic Però Nel senso Secondo me l'anno scorso La stagione di Miami Soprattutto nella Più che altro Più che la stagione La bolla No il playoff Nella bolla di Miami Sono stati Sopravvalutati E Devo dire che Quest'anno Sono usciti dei limiti Abbastanza evidenti Cosa ancora più importante È l'infortunio di Oladipo Perché tu per Oladipo Hai scambiato due giocatori E adesso non li hai più Cioè nel senso Tu hai preso Oladipo Scambiando Due giocatori Bradley E Olinik E Oladipo adesso è infortunato Quindi Due giocatori Che potevano essere in rotazione Playoff Li hai persi Per un giocatore infortunato E anche sfortuna Ovviamente Però insomma Considerando l'infermeria Di Oladipo La storia infermeristica Di Oladipo Mi sa che Non è stato proprio Un azzardo Che ha pagato Anzi non ha veramente Pagato niente Però comunque Quindi io parlerei più di gara 1 Che di gara 2 Perché gara 2 Veramente Non è stata una partita È stata un'esibizione Cioè veramente Harlem Globetrotter style La partita No a un certo punto Quindi Gara 1 invece Ci ha dato subito Delle considerazioni interessanti Perché Se vi ricordate L'anno scorso Butler non prese Antetokounmpo subito E Antetokounmpo Non prese Butler Nella bolla Non si marcavano i due Si aspettava L'ultimo quarto Quest'anno invece Dal primo possesso di gara 1 Si sono presi entrambi Quindi Giannis su Butler E la difesa di Giannis su Butler Si vede perché Butler Sta tirando col 20% Dal campo Praticamente Ma anche la difesa di Butler Su Giannis Si vede Perché comunque Giannis è vero Ne fa 27-28 Per carità È inarginabile Però Insomma Fa fatica Fa fatica Giannis A poter segnare liberamente Poi certo Lo strapotere fisico Lì sotto È immediato Quando riesce A prendere il rimbalzo Offensivo Lì è inarrestabile Però Quando lui deve crearsi il tiro Fa fatica contro Giannis E Ricorda Contro Giannis Sembro Tostano Comunque Ricorda molto Una situazione Che ho letto tra l'altro Un commento su Instagram Intelligente Per una volta Incredibile Insomma Qualche volta Ce l'abbiamo fatta Non era Ioki C-MVP Il commento intelligente Ma era Un commento Del tipo Anche Con Toronto Erano 2-0 No Vi ricordate I Raptors Delle Meraviglie Dell'Anello No Appunto Quindi Mi luocchi avanti 2-0 Poi Nurse Dice Vabbè È arrivato il momento Kawaii su Giannis E sappiamo Come è andata a finire Ecco Il problema Che io ho Con quel commento Però Nonostante sia comunque Indicativo No Perché C'è sempre La magagna dietro Con i Bucks I tifosi Bucks Lo sanno Però la differenza è che Butler sta già marcando Giannis Quindi Toronto Dovette mettere Kawaii Per arginare Giannis E vincere la serie Miami sta già mettendo il suo miglior difensore su Giannis E sono sotto 2-0 Di cui gara 2 Insomma Stendiamo un velo pietoso Ecco Quindi Insomma La vedo molto dura adesso per Miami Riassestare la serie Visto che Quali altre alternative hai a Butler su Giannis? Ne hai veramente poche L'unica che ti rimane è a Debaio Da mettere su Giannis Fisso Vediamo cosa farà Sposta Comunque Tornando a gara 1 Gara 1 è stata forse la partita migliore dell'anno Considerando appunto anche il valore dei playoff ovviamente Aggiungo anche il valore dei playoff che Non è paragonabile a quello della regular season È stata una partita di un'intensità allucinante Una partita che ha dimostrato E Insomma Eravamo più o meno tutti d'accordo Che vabbè ma adesso È arrivato PJ Tucker Budenholzer Panchina Bruc Lopez nei finali di partita Facile e facile 5 5 fuori Anzi 4 fuori Uno dentro con Giannis E andiamo a far Baldoria Signori Bruc Lopez in campo per tutto il quarto quarto Praticamente per tutto l'overtime Di gara 1 Ed è pure stato Ed è pure stato importante Ed è pure stato importante Ha messo Due tiri liberi Ha messo un rimbalzo offensivo In tap in Bruc Lopez Si è dimostrato più utile del previsto In questi nuovi bugs Dico nuovi bugs perché sono molto cambiati rispetto all'anno scorso Ho sentito persone dire che i bugs sono peggio dell'anno scorso Scale antincendio a fianco perché mi sembra un parolone dire che sono peggio dell'anno scorso Insomma Già che è andato via Bledsoe è un upgrade della Madonna Se poi arriva Drew Holiday Insomma dire peggio non saprei Arriva PJ Tucker che è vero Ha avuto un calo, un crollo fisico estremo Perché comunque lo vedi che Non è molto in forma Ma comunque anche lui ha 36-37 anni Infatti pare che i bugs non lo rifirmeranno quest'estate Quindi PJ Tucker sarà free agent Alla fine di quest'anno Però Onestamente Onestamente parlando Onestamente parlando Non mi pare il PJ Tucker delle meraviglie di Houston In tutto questo Però Però Quindi Una gara 1 che ha visto Un Duncan Robinson incendiato Letteralmente infuocato da linea 3 punti Invece i bugs hanno tirato molto molto male Però Durante la reaction live Vero in live appunto con Sweet Con il maestro Io ho detto Le due chiavi della serie sono Uno per i bugs e Middleton Game winner Per i Miami Heat E Tyler Irro E Tyler Irro sta piano piano Cioè Siamo passati da Got status A Crollo vertiginoso Verso il Mim Perché Anche in gara 2 È stato 10 minuti in campo È vero che la partita Non ha molto a dire Però 10 minuti Per Tyler Irro in gara 2 Gara 1 Desappare Sido Gara 2 Che Voglio dire Sul più 30 miluocchi Se può far giocare le riserve Mi fa 10 minuti in campo Insomma Non saprei Invece Anche Middleton Per quel che Valso in gara 2 Comunque Ha giocato molto bene E dico che la serie Gira su Middleton Su Irro Per due motivi Uno perché do scontato Che Giannis Sia Insieme a Holiday Il perno Di miluocchi Se Giannis gioca male È chiaro che miluocchi Ne risente Se Holiday gioca male Però vabbè Se Giannis gioca bene È un altro discorso Però Holiday È un giocatore importante Soprattutto dal punto di vista Difensivo Per i miluocchi bucks Dall'altra parte Adebayo e Butler Se giocano male Finisce come ieri Finisce Dopo la palla 2 Dando per scontato Che Antetokounmpo E Holiday E Butler Adebayo Siano i perni Delle loro Ispettive squadre Gli outsider Cioè i giocatori Che devono performare Alla grande Per dare appunto Il tirone Sono Middleton Da una parte Non tanto per il contratto Lasciamo stare Il discorso contato Proprio a livello di campo Middleton da una parte E Irro dall'altra Tra l'altro Vi ricordo che L'anno scorso L'unica partita Seria Che c'è stata Tra Miami e Bucks Nella bolla È perché Middleton Ha fatto il fenomeno Ci ha fatto la partita Della vita Cioè Insomma Ecco Quindi Middleton Sicuramente È un giocatore Importante Ma secondo me Adesso è diventato Fondamentale Per i Milwaukee Bucks Se gioca così Poi Ce ne sono di meglio di lui Assolutamente sì Giocatori al suo posto Meglio di lui Che performano meglio di lui Sì Però siccome Abbiamo Middleton Middleton deve elevare Il suo gioco Lo ha fatto in gara 1 Col game winner Lo ha fatto anche in gara 2 Giocando bene Quindi Middleton È un giocatore Super super Importante Per questi Milwaukee Bucks Il vero Outsider Dei Milwaukee Bucks Se lui Performa come Nelle prime due partite I Bucks Hanno veramente Un long shot Per il titolo Cioè hanno Una Un buon Hanno veramente Un buon Una buona prospettiva Per andare alle finals Ovviamente Al secondo turno Molto probabilmente Ci saranno i Brooklyn Nets Adesso parliamo di Brooklyn Nets Però Al secondo turno Ci saranno i Brooklyn Nets Quindi A maggior ragione Middleton deve elevare il suo gioco Con i Nets A maggior ragione Di conseguenza La serie 2-0 per Milwaukee Io ho detto Milwaukee in 6 Si Milwaukee in 6 Mi sa che finirà Mi sa che finirà prima Rimanendo a Est Andiamo Qua sotto Qui sotto Ecco Nets Celtics Gara 1 Vista in diretta Ero live Nel primo tempo A Brooklyn Sono usciti Molti tiri Che normalmente Entrano Un Durant Che non segnava I tiri Che ha sempre segnato Occhi chiusi Nella sua carriera Un Harden Che smattonava Un Kyrie Che invece Più o meno Faceva cose Un Blake Griffin Impresentabile Però Non guardo più La NBA Perché Blake Griffin È un all star Dieci volte Dunker of the year E non lo guardo più Basta Playoff di merda Non si possono guardare Ok Quindi Molto meglio Jeff Green In tutte le fasi Di gioco Soprattutto in difesa Ha fatto un paio di difese Su Tatum Nel secondo tempo Ragazzi Uno contro uno Tatum non ci ha capito niente Per quanto Tatum Sia stato comunque Il migliore dei Celtics Insieme a Timelord Che sapete che io Sapete che io Ho sempre delle Come dire Vado con i piedi di piombo Quando si parla di Timelord Perché si va bene ragazzi Timelord ok Nove stoppate Sta giocando bene Ok Però lo vorreste Come centro titolare Per vincere il titolo Quella è la vera domanda Però Non si vince sempre Con 5 all star Vabbè ci sono Eccezioni Mi vorrebbe da dire Però Però Non l'hanno vinto Con 5 all star Non l'hanno vinto Non si vince Con 5 all star Ma è una formula Una formula 100% 100% garantita Da tutti i medici italiani Comunque Timelord Molto bene Benissimo Nove stoppate Ha giocato molto bene Con grande intensità Benissimo Bene Tatum Kemba Ve lo pietoso Smart Se non lo tradano Ainge può anche andarsene Per quanto riguarda i Nets La differenza è stata Che nel primo tempo Non è entrato quello che doveva entrare Nel secondo tempo Appena è entrato quello che doveva entrare Buonanotte Perché Lì hanno preso 10-13 punti di vantaggio E la partita Poi è Sonnecchiatamente Andata Verso la fine Nonostante Boston abbia fatto Comunque Una Una late comeback Comunque Verso la fine La partita Era comunque C'era ancora una partita Però appena i Nets Hanno accelerato un attimo Durent ha messo 3-4 canestre di fila Che insomma Lasciamo stare La partita lì poi si è spenta I Nets Hanno tirato 9 Allora I Celtics Nel primo tempo Era 9 su 17 da 3 I Nets Erano 1 su 13 Una roba del genere Ed erano avanti Solo di 4 I Celtics Se non sbaglio Alla fine Di 4 Di 6 Una roba Una roba così Tu dici Cazzo Cioè Se i Nets tirano col 10% da 3 E sono sotto di 6 E i tiri che hanno generato Comunque sono i tiri che mettono Cioè che quei 3 lì Mettono Ad occhi chiusi Nel secondo tempo Se iniziano ad entrare i tiri Non c'è più storia E infatti Non c'è stata più storia Nel secondo tempo Perché appena sono entrati i tiri Che di solitamente entrano Non c'è più visto Non c'è stata più Più partita Però comunque Boston è uscita Meno tritata Del previsto Nel senso che ci si aspettava Una rullata Colossale Anche Milwaukee Miami Insomma Dopo gara 1 Ci aspettavamo Una serie tiratissima Ecco gara 2 Ha un po' spento gli animi Chissà che Boston Nets Tra l'altro si gioca stanotte Per me che sto facendo il video Quindi voi Domani che vedete il video Sapete già com'è andata Non vorrei Che Nets Celtics Di stanotte Diventi Una Milwaukee Miami 2.0 Perché Sarebbe un po' triste Però è anche vero che Il tasso Offensivo Dei Nets È allucinante E in difesa Nel secondo tempo Quando Hanno iniziato a difendere Su Tatum E quando Jeff Green Si è preso Tatum La fase offensiva Dei Celtics È andata in panne Si è visto proprio che No Tatum No pari Per i Celtics Ma già lo sapevamo Però A questo livello Non puoi permetterti ciò Tatum deve imparare E sicuramente Dovrà sviluppare Questa situazione E lo farà Perché non ho dubbi Che oramai I giocatori Sono tutti proiettati A fare questo Diventerà Un assist man Decisamente migliore Rispetto a quello che è adesso Perché adesso È un pochino limitato Per quanto riguarda La visione di gioco Ma Si può implementare Non ai livelli ovviamente Di Chris Paul Di Lebron Di Nash Di Williams E questi giocatori qui De Ron Williams Intendevo Però Di Rondo E di chi volete voi Di Stockton E vabbè Adesso non facciamo Di Magic Facciamo la lista Comunque Dovrà migliorare In questo fondamentale Perché le difese Lo raddoppieranno Sempre di più E lo dovrà essere Sempre più bravo A trovare i propri compagni liberi Comunque Boston Senza Brown Onestamente Ha preso Una grossa Una grossa Inculata Kemba A me dispiace Ma Kemba Mi sembra sempre più Un Un ex parente Di quello che Giocava Charlotte Anche se comunque io ho detto che Prenderà il massimo salariale Perché lo prenderà Però Kemba non è quel giocatore E infatti Vabbè Infortuni a parte Però devo dire che Kemba Non mi ha mai dato Grosse Grosse garanzie Comunque Andiamo al Garden Partita vista in diretta Anche quella Gara 1 con Fa freddino Al Garden È 1 a 0 per Atlanta Un 3 young Scatenato Nel quarto quarto Un 3 young Che ha avuto una partita Sì difficilina Tutto sommato Perché Nei primi tre quarti Non è che abbia proprio Incendiato L'atmosfera Però poi nel quarto quarto Ha iniziato a Prendersi le sue responsabilità Ha iniziato a prendersi I tiri liberi Che gli danno Il regular season Se li è andati a prendere tutti E poi Ha messo il game winner In floater E poi Shushing the garden Dicendo This place is fucking quiet Questo posto adesso È molto silente Una partita però Che è stata allucinante È stata una delle migliori partite Del primo turno E signori Io vorrei dire Ma la differenza Tra regular season E playoff L'avete notata anche voi O no? Cioè Non vorrei essere scontato Però a me sembra Leggermente meglio Questi playoff Di questi Di questa regular season E Attenzione Vorrei anche dire un'altra cosa Non so se avete letto Del torneo Coppa Stern Che mi ricorda molto La Coppa Cabram La Coppa Cabram Di Fantozzi No? Ecco Secondo me È una grande cagata Nel senso che Per me Non Non riesco a capire Allora Devono discuterne In questo off season Però Il premio Finale Per questo torneino Dovrebbe essere O soldi La prima scelta Al secondo giro Del draft Cioè la 31 Oppure Un posto garantito Ai playoff Io metterei anche Finalista Ad honorem Già che ci siamo Facciamo una finale A tre Facciamo un triangolare Si affrontano due volte Ogni squadra Chi ha più punti Vince Cioè Io farei anche così Già che ci siamo Ecco Secondo me Questa è un'idea Stupida Idiota Non lo so Non mi dice niente Questo torneino Qua Mi pare Una cagata Pazzesca Cioè Non Non lo so Boh Boh Sarebbe Snaturare Troppo Il Sarebbe Snaturare Troppo La NBA Secondo me Sono d'accordo Con ridurre Il numero di partite Magari a 72 Sempre Quindi al posto di 82 Facciamo 72 E mi va benissimo Perché comunque 82 sono veramente troppe 72 Perché comunque La NBA a livello di soldi Pre-Covid Era messa benissimo Cioè La crescita del salary cap Che avete visto negli anni Era dovuta ad una Ad una Economic wealth Cioè Al Health Cioè ad una Salute economica Gigantesca Perché la NBA È cresciuta A livello di soldi In maniera Allucinante Negli ultimi Dieci anni Cioè Dieci anni fa Il salary cap Era 90 milioni Adesso siamo A 112 Con La luxury A 140 Cioè Era impensabile Era impensabile Una crescita esponenziale Quindi la NBA Ha soldi È messa bene Di conseguenza Dieci partite in meno Possiamo anche Anche farle No Adam Possiamo anche farle Anche per rispetto Dei giocatori Appunto Per gli infortuni Per Per quant'altro Però Togliermi dieci partite Per inserire un torneino estivo Che mi pare La summer league Anticipata Vabbè Ovviamente I dettagli Sono ancora tutti Da discutere Dovranno discutere Nella NBA Con l'associazione giocatori E con l'associazione Presidenti E si saprà Quest'estate ovviamente Adesso non si sa nulla Però è trapelato Che questi premi Potrebbero essere Una scelta Al secondo giro La scelta 31 Che voglio dire Cioè Cioè Voglio dire Per la 31 Vabbè Il posto I playoff garantito È una roba Cioè Quello è allucinato Immaginatevi Cioè Immaginatevi Se Houston Avesse vinto Quel torneino E fosse andato I playoff Di diritto Quest'anno Cioè Vabbè Ovviamente Cioè La mia domanda è Se tu metti Come Posto garantito I playoff Il premio di questo torneo È andare I playoff Chi vincerà mai Questo torneo Secondo Adam Silver Lo vincerà Houston Lo vincerà Oklahoma City Lo vincerà Che ne so Detroit Lo vincerà Orlando Ma non penso proprio Cioè Tencheranno Comunque Quello è il mio problema Mi pare Un torneo Giusto Per ucaz Cioè Giusto per Cambiare qualcosa Che non va cambiato If it ain't broken Don't fix it Se non è Rotto Non Non aggiustarlo Non metterci mano Stessa cosa Sulla regular season Abbassami le partite 72 vanno benissimo Penso anche a livello economico Tutto sommato 10 partite Non è che mandino in bancarotta La NBA È vero qualcosa di meno Però voglio dire Per 10 partite Non credo che Cioè Se c'è un Orlando Detroit In meno Non credo che i tifosi Di entrambe le squadre Piangano Però Almeno Dai un pochino più di Flessibilità Alla regular season Per quanto riguarda Il ritmo partita Appunto Per il ritmo Anche dei voli Spostamenti E quant'altro Comunque Torniamo al Garden Dove Rendolo ha giocato male Rendolo ha giocato Ha avuto un impatto Sui playoff Veramente Veramente brutto Ha sparacchiato Ma solito Anche il gallo Non benissimo Nonostante la cresta Burks Che Vabbè Cioè In senso Burks Che fa tipo 28 punti Con 10 su 11 Dal campo Una roba simile Cioè A un certo punto Pareva Jordan A un certo punto Tifosi Knicks Che si bagnavano Però Secondo me Ha vinto la squadra Con più talento Ha vinto la squadra Che Dai Singoli Può chiedere di più I Nets Giocano molto Coralmente Non i Nets I Knicks Giocano molto Coralmente Difendono alla morte Che è l'insegnamento Di Tibodo In attacco C'è sempre Sempre Tibodo C'è sempre Quell'improvvisazione Che Te la risolve Rendolo in regular season Te la risolve Burks In gara 1 Dei playoff Però Non proprio Un attacco Scoppiettante Fortunatamente C'è la difesa Che mette una pezza Però A livello di playoff Il talento dei singoli È troppo più importante A gioco rotto Ogni volta che Atlanta Non trovava una soluzione Appunto Sullo schema Che giocavano Non c'era la soluzione Che trovavano Che cercavano E una volta E una volta Era Bogdanovic E una volta Era Trae Young E una volta Era Hunter E una volta Era il lob Per cappella Cioè È vero È vero Che Entrambe le squadre Hanno avuto Luci ombre In gara 1 Cioè che È vero che Burks Non ti farà mai più 28 punti Ma è anche vero Che Rendolo Non penso Perché da tifoso Lakers Tifosi Knicks Ve l'assicuro Che Rendolo Potrebbe essere Questa tutta la serie Però Per tifosi Knicks Per assicurarli È vero che Rendolo Non giocherà così male Gara Ancora Altre partite Dei Dei playoff Almeno per il resto Della serie È vero che Atlanta ha trovato Un Bogdanovic Incendiato Ha trovato un Trae Young Che gli hanno fischiato Falli Che solitamente I playoff non fischiano Perché gli fischiano Il regular season Però secondo me Alla fine Vincerà la squadra Più Con più talento A livello individuale Infatti ho detto Atlanta in Atlanta Atlanta in 6 E rimango Rimango tale Per quanto riguarda Philadelphia Washington È stata una partita Che partita non doveva essere E Philadelphia Secondo me Continua a darsi la zappa Sui piedi Perché Se il secondo turno Dei playoff È Milwaukee Nets Io se sono Philadelphia Sweepo Washington Ma non è che Sweepo Washington La sweepo Con 30 punti A partita Di differenza È vero In gara 1 Embiid ha giocato Pochissimo Nel primo tempo Solo 10 minuti Per problema di falli Però secondo me Contro Washington La Washington Che io ho visto Sia contro I Celtics Al Garden Dei play-in Sia contro I Pacers Nello spareggio decisivo Secondo me Philadelphia Dovrebbe dargene 40 di punti Manco 30 40 Una Philadelphia Che si è Sorretta Su Su un Gafford Estremamente positivo Su un Bertans Che è tornato a segnare Se hai ricordato Che bisogna fare questo Una pallacanestro Un Bill Sempre presente Una Cimura Che ha giocato Una partita offensiva Incredibile Un Robin Lopez Che Cioè Got dei ganci E non parlo del pugilato Robin Lopez Se non ha 99 Di gancio in post In NBA 2K22 È da riportare indietro il gioco Io ve lo dico Dall'altra parte Tobias Harris Dopato Così Cioè Tobias Harris Dal nulla 30 Alla fine del primo tempo Infatti Ero in live E molti mi chiederono Ma Ma È buggato il sito Cioè Vedo male io Cioè C'è un errore Vero No no Erano 30 per Harris Perché NBA Non ha praticamente giocato Rimane sempre Ben Ben Rimane sempre Non lo so Ben Contro Westbrook È la lotta Dei giocatori Odi Out Amo Mi verrebbe da dire Cioè O li odi O li ami Una volta era Odi E tamo Adesso è Odi Out Amo Perché Tu dici Porca puttana Porca puttana Questo mi ha fatto 2 su 6 dal campo Ben Simmons 2 su 6 dal campo 15 rimbalzi 15 assist E tu ti chiedi No Ti viene Ma Non è che forse Se sei così dominante Magari anche in attacco Puoi essere Siccome Gioele è uscito Per falli No Ti chiedo io Magari Se fosse un pochino Più aggressivo Forse 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 Chi lo sa Forse Niente Non c'è un cazzo da fare Dall'altra parte Abbiamo Westbrook E Arriviamo Per la partita Arriviamo Alla palla persa Di Westbrook A quella Palla persa Non palla persa Quel Tallone Sopra Sotto Era sotto Era sopra Ha toccato la linea Ma Prima di andare A esaminare Quella palla persa No Se era fuori Se era dentro Se il piede Era Ok La mia domanda È la seguente Ma Westbrook Al posto di Rischiare E alla fine Perdere la palla Non poteva Semplicemente Al posto di rimanere In equilibrio Su una gamba Tipo Tipo Circo Perché Aveva tutto Il tempo Per poter Cioè Lui si è girato Verso il campo Per vedere Dove erano I suoi compagni C'era Cimura A un metro A un metro Era lì Non poteva Salvare la palla Passandola a Cimura Tornare in campo E riprendere il pallone Che uno mi dice Eh ma mancavano 8 secondi Alla fine della partita Perdeva tempo Ma ha perso più tempo A rimanere Come un mimo Lì in equilibrio Per un secondo Per evitare Che la palla uscisse Faceva così Uno schiaffo La buttava a Cimura Ha perso più tempo E ha perso Pure la palla Facendo come ha fatto Rispetto a rimetterla in campo E riprendere il pallone Dopo in movimento Ed è questo Che mi manda Sotto le fure con Westbrook Perché io dico Io capisco Che tu sei Devo reggermi Io capisco Che tu sei Over Odiato Sei Over Che ti reputano Overrated Che Spesso Ingiustamente Ti criticano Ti rompono i coglioni Però tu non fai niente Per 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 Affanculo Tu non fai niente Per Negare questa cosa Cioè Ogni volta Che puoi dimostrare Che forse Non è così Cazzo La confermi ancora di più Per la porca puttana Cioè Cazzo Non ho mai visto Un uomo spararsi Nei coglioni Più di Westbrook Non ho mai visto Un uomo Spararsi Volentieri Forse Con un certo fetish Nei coglioni Come Westbrook Punto Perché Washington La partita L'ha persa lì Washington La partita L'ha persa lì Che È assurdo Dire che Fila Washington Washington Poteva vincere la partita Lo so È incredibile A dirsi Quanto Quello che vedevo In campo Però è così Ora Spero che Philadelphia In gara 2 Rulli Washington Ma ripeto Philadelphia Deve superare Il primo turno In 4 Io ho messo in 4 Perché Credo Nel mio Nel mio Pensiero Fila Non deve perdere Energie aggiuntive Con Washington Fila non può Permettersi Di andare All'ultimo Possesso Con Washington Di andare All'overtime Di perdere Di perdere Una partita Fila Non può Permetterselo Fila Deve riposare Il più Possibile Perché Nets Bucks Sulla Carta È dato Almeno Io l'ho messo Almeno Delle 7 Però Credo Che Alla Settima Almeno In 6 Ci vanno Cioè A meno Di grossi Colpi Di scena Secondo me Nets Bucks In 6 Ci arrivano Ecco Quindi Se tu sei Philadelphia Devi riposare Il più Possibile Devi riposare Il più Possibile Non puoi Permettere Di perdere Le energie Inutili Ma Conoscendo Philadelphia Conoscendo Doc Rivers Sicuro Vanno in 7 Con Washington Sicuro Vanno in 7 Con Washington All'ultimo Possesso Di partita Già tanto Che Avanti 3-1 Non perdono 4-3 Andiamo Ovest Andiamo Ovest Andiamo Ovest Allora Partiamo Da Utah Utah Golden State Qua E Non Utah Golden State Ma Utah Memphis Tra l'altro Vittoria in gara 1 Dei Memphis Grizzlies Io ho visto La partita Beh Utah Chiaramente Senza Mitchell Non è la stessa Squadra In più Gobert E Conley Con problemi Di falli A maggior ragione Hanno 4 falli Inizio Terzo Quarto Panchinati Entrambi Per ovvi Motivi Quindi Praticamente La squadra B Degli Utah Jazz Contro i titolari Dei Memphis Grizzlies Signori Dion Brooks L'uomo del destino Di Memphis Continua Niente Ve lo so dire Questo Dion Brooks Comunque Completamente Svalvolato Cioè Ha messo Un layup Di Mancina Scavalcare Favors Se non sbaglio Un tiro Che non gli entra mai Ma neanche se lo prova Cento volte al giorno Gli entra mai più Quel tiro Ecco Tanto per dire Tanto per dire Che comunque Era la serata Di Memphis Nonostante tutto Però Utah Se l'è giocata Con un Bogdanovic Che ha fatto 0 Nel primo tempo Poi ne ha fatti 24 Nel secondo Ha sbagliato la tripla Del pareggio Ma onestamente Era un qual Cioè se l'avesse messa Veniva giù tutto Clarkson 0 su 8 da 3 Six men of the year Tra l'altro Jordan Clarkson Nominato Six men of the year Abbastanza scontato Come premio Tra l'altro ha ricevuto Tipo 400 e passa voti Cioè Ha Stradominato La corsa Per il six men Diciamo che Ovviamente Utah Arrivava Senza Mitchell E La partita poi Si è rivelata Un Sostanzialmente Conley e Gobert In problema di falli Quindi È chiaro che lì La partita È indirizzata Verso Memphis Memphis comunque Ha fatto fatica A vincerla In tutto questo Ci sono volute Delle acceleazioni Di Jamorant Nel quarto quarto Che ha messo lì tutti Praticamente Piantato tutti Desmond Bank Con una tripla Claccissima In faccia Greson Allen Poi mezzo sorrisetto In faccia Semirissa Ma vabbè A noi piace anche questo Comunque devo dire che Se una partita Memphis doveva vincerla Era proprio gara 1 Perché senza Mitchell Onestamente E poi per come si è messa La partita Ha maggior ragione Io credo che in gara 2 Sarà 1 a 1 Comunque Nel senso che Faccio fatica a vedere Un 1 0 2 Per Memphis Sarebbe abbastanza Cioè Sapete che io Non reputo Utah Una contender Però adesso Cioè 0 2 Con Memphis Mi sembra un po' Esagerato Tutto qua Arriviamo Qua Qua c'è La parte Dove si congela Il mondo Perché Aspetta Allora Non solo Allora È back È back Da 8 metri Però Quello Non è un tiro D'alimento Però A parte Quello Gli altri Quelli che Ha insegnato Il resto Dele triple Il finish Mid di turno Il team Hardaway Il Branson E quant'altro Erano triple Con 3 metri Di spazio Perché Quel 5 Fuori Di Dallas Tutto sommato È quasi Indifendibile Cioè È veramente Difficile Difendere Un 5 Fuori Così Estremo Come quello Di Dallas Considerando Che hai Donchic Come giocatore Migliore Cioè È un 5 Fuori Con Donchic In campo Con Donchic A fare il playmaker Con la visione di gioco Che ha Questo trova Passaggi Che non esistono E ne abbiamo visti Anche con i Clippers In gara 1 Cioè Il problema di Dallas È che La fase La sua fase Offensiva Oltre che l'anno scorso Era la più alta Nella storia NBA Ma È proprio difficile Marcarli È proprio difficile Stare al passo Con una Con una Con una fase Offensiva Simile Con un 5 Fuori Così È difficile Marcarlo E i Clippers Per di più Non ci hanno capito Niente l'anno scorso Anche se Alla fine È finita comunque 4 a 2 Perché i Clippers Erano troppo superiori Quest'anno però T'aspettavi Una gara 1 Che dici Beh però Adesso i Clippers Cambiato allenatore Arrivato Rondo I Bacca Che è vero C'ha problemi In furto Ha giocato anche poco La TN Però I Bacca Onestamente Come fa a giocare Contro questa Dallas Cioè come fai a giustificare I Bacca in campo Contro questa Dallas Un Paul George Che ha giocato Ni Non troppo bene Non troppo male Un Kawhi Anche lui Ni Secondo me Rondo molto bene Non capisco i minuti In Reggie Jackson Così altissimi Per Tyron Lu Perché non mi è parsa Una partita Trascendentale Di Reggie Jackson Per giustificare Tutti questi minuti È chiaro che Innanzitutto Dovremmo partire Con Leonard O George Su Donchic Fisso E non Reggie Jackson Perché Cioè quando Donchic Ha visto Reggie Jackson Risatta Ne aveva fatto 15 punti in un minuto Cioè contro Reggie Jackson Li ha tirato in testa Tutte le volte Ha messo tipo Tre triple in un minuto Perché con Reggie Jackson Che lo contestava Alzava la mano Donchic Cioè voglio dire Ecco Avete capito Comunque Ecco Io non andrei su Jackson Su Donchic Andrei su George O Kawhi Su Donchic Giusto anche per infastidire Un attimino Ecco Strapperei Dalla pagina Di Nick Nurse Contro i Bucks No De fatto Kawhi Sul giocatore mio Degli altri Io magari La proverei Comunque È una serie che Non si prospetta Sulle 5 Come io avevo Pronosticato Nel mio personalissimo Playoff bracket Ma aspettavo Dei Clippers Molto più agguerriti Onestamente Rispetto all'anno scorso Invece Dallas Almeno per gara 1 Ha fatto Una grandissima partita Vediamo gara 2 Gara 2 Che potrebbe essere già In questa serie Secondo me Più di altre Potrebbe essere già Lo Spartiacque Perché i Clippers Sotto 2 a 0 Non so fino a che punto Mentalmente Possano reggere La pressione Di essere sotto 2 a 0 Dopo la figuraccia L'anno scorso Non vorrei essere Nel loro spogliatoio Se andassero sotto 2 a 0 Si gioca stanotte Comunque per me Per voi Si gioca Si gioca domani E hanno già giocato Ovviamente Il video Il giorno Portland Denver Io ho messo in 7 E attenzione Perché qua forse Qua forse Ci azzecco Una gara 1 Vista in diretta Con un Carmelo Nel primo tempo Ragazzi Sembrava Frobe Carmelo Fischiato Carmelo Anthony Al Pepsi Center Ma io dico Ma come Fischiate Carmelo Anthony Cioè Questo qua vi ha portato Alle Conference Finals A giocare contro Bryant Gasol Bynum Odom Contro i Lakers Del titolo E avete pure vinto Una partita Allo Staples In tutto questo Finì in 6 Quella serie Solo per merito Di Carmelo Anthony E lo fischiate Cosa Cioè Vabbè Casual 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 Ah basta Finito il momento Scarpi Comunque Allora Ehm Come al solito Ehm Sul pick and roll Sempre troppo Mortifero Ovviamente Jokic Non c'ha fare Jokic Pick and roll Sta sempre Un passo indietro De Impalleggia Resto tiro Da 3 Da 9 metri Per carità Però intanto Quelle triple Continua a segnarle Ehm Un Powell Che Sembra essere Il fratello Scarso Di quello Che era Toronto Per tantissimi Motivi Ma Più o meno Io L'avevo già detto Durante la 3D Della 9 L'avevo detto Che Serve Powell Come Collume Lillard Cioè È veramente Il giocatore Che stai cercando Pare che Ci ho azzeccato Comunque ancora presto Magari poi Powell Ne fa 50 La prossima partita 2-1 Portland Però Ecco Per Portland Chiaramente No Dame Time No Parry E questo L'abbiamo capito Un McCollum Che Si Tira bene Segna Però non incide Ma Cioè McCollum Mette punti Che non pesano Sulla partita Quando segna McCollum Non lo sa manco Lui che ha segnato Cioè Manco il telecronista Te lo dice Che ha segnato McCollum Ecco Ai playoff Conta tantissimo Questo tipo Di punti Pesanti Cioè io cosa intendo Per punti pesanti Punti a livello Proprio di Flow della partita Del Insomma A livello mentale Anche i tuoi compagni Di come reagiscono Di come cambiano Le partite Cioè McCollum Segna Ma Non è mai Nel momento Importante Della partita Almeno Non in queste Prime due partite Dall'altra parte Dall'altra parte C'è l'MVP Secondo me Che in gara 1 Ha resistito Finché ha potuto Per tenerla aperta Poi Portland E scappata via Con Lillard Scatenato In gara 2 Ha tenuto Dietro Un Lillard Scatenato Che ne ha messi 32 Nel primo tempo Con 8 triple Record NBA Pareggiato Insieme a Vince Carter Poi nel secondo tempo Lillard è un po' Scomparso Perché onestamente Non poteva andare avanti Con quel ritmo Jokic invece Ha continuato A macinare E alla fine Se l'hai portata a casa Nonostante In gara 1 Comunque Shout out A Michael Porter Giugno In attacco Perché in difesa L'hanno bersagliato Su ogni pick and roll Appena C'era Michael Porter Giugno In campo Stotz Alzava la testa Vedeva Michael Porter Chiamava Lillard Aooo Pick and roll Su MPJ Switch Erano tre facili Ogni volta O erano end one O erano tre facili Comunque Hanno attaccato A Michael Porter Giugno Ogni singola azione Insieme a Jokic Ovviamente Sul pick and roll Quando sono in campo Però Michael Porter Giugno In gara 1 Ha fatto una Grande partita In attacco Che è quello Che deve fare Però a livello Difensivo Denver Si vede Che manca Qualcosina Per quanto riguarda Porta Non commento Neanche A livello Difensivo Soprattutto Quando in gara 1 Ho visto Kanter Marcare Jokic Signor Stotz Va bene tutto Però adesso Trollare Ai playoff Mi sembra esagerato Stotz È un Meme lord Cioè Questo ha fatto 28 10 8 7 6 Quanto cazzo Ha fatto Il regular season Col 60% Di effective Fill gone Percentage E tu Mi metti Kanter A marcarlo Infatti Jokic Ha messo 10 punti Di fila Subito Panchinato Immigratamente Kanter Però ecco La serie qua Gira molto Su Oltre che Su Jokic E su Leader Perché Mi sembra Di dire Ovvietà Io direi Che Gli outsider In questa serie Sono decisamente Norman Powell Decisamente Norman Powell E per quanto riguarda Denver Non mi verrebbero a dire Michael Porter Jr Perché non è Michael Porter Jr Ma Secondo me Potrebbe essere Monte Morris Perché Monte Morris Dalla panchina Secondo me Può portare I punti E Le assistenze 7 se non sbaglio Stanotte per Morris Ma comunque Può portare Lo scoring Che Dalla panchina Ovviamente Un po' Manca Denver Soprattutto Ho visto L'infortunio Del Pornostar Di Jamal Marra Dopo 40 minuti Intensi Arriviamo Arriviamo Alla serie Delle serie Perché dai Adesso Parliamoci Chiaro Un primo turno Del genere Dai Cioè E la serie Delle serie Questa Adesso voi Potete dirmi Quello che volete Ma La serie Per eccellenza In maiuscolo Di questi Playoff Sono ovviamente Sons Lakers Christopher E Emmanuel Paul Contro Lebron James E Anthony Davies Però Da Phoenix Arrivano notizie Interessanti Riguardo The next Kobe Shaq No Come Eiton Aveva definito Lui E Booker Insieme Siamo il prossimo Kobe Shaq Oh Non vorrei dire Però Contro i Lakers Mi è parso Veramente Che fosse Next Kobe Shaq Buker Buker Ne ha messi 34 Ma ragazzi Con una personalità Imbarazzante Però Adesso Vorrei spiegare Il motivo Di quella personalità Eiton Criticato Tutta la stagione Si ma è soft Non difende Ma è un palo Ma è scarso Peggiore Scelto il muro di sempre Al pari di Bennett Si trasforma In un 20 e 15 Così In una Con 10 su 11 dal campo 11 su 12 Una roba del genere 20 e 15 In scioltezza Per Eiton La cosa più normale Del mondo Per Deandre L'altro ieri E Lakers Che vengono triturati Perché Vengono triturati Dai Suns Nonostante Nonostante Un 10 punti di scarto Per chi ha visto la partita Non può dirmi Che sia stata una partita È stata una Un massacro Dei Suns I Lakers Mai In partita Un Dramond Panchinato Dalla disperazione Che L'unico Matchup Che ha L'unico Matchup Che ha Dramond Nel mio Bracket È proprio Contro i Suns Perché c'è Eiton Perché poi contro Jokic Magari anche no Ma contro i Suns Che c'è Eiton Se Dramond Non può stare in campo Contro Eiton Vabbè Lasciano stare Comunque Dramond Panchinato Dalla disperazione Anthony Davis Che evidentemente Si è dimenticato Come se gioca Qualcuno gli passa Il regolamento Che magari si ricorda O gli faccio vedere Qualche video Dell'anno scorso Lebron Che va a un chilometro orario Schroeder Che Non ha neanche giocato Non ha neanche giocato Così male Contro i Suns Perché È stato il meno peggio Allora Quando Danny Schroeder È il meno peggio Dei Lakers Sapete Com'è andata a finire Non c'è Non Quando Schroeder È il meno peggio Dei Lakers Immaginate Il resto Immaginate Il resto Comunque Schroeder Il meno peggio KCP Vabbè Non è certo Il giocatore Che risolleva Le sorti Di una squadra La panchina Non voglio neanche Entrare nel merito Cusma Meglio che non parlo Però I Suns Allora Le persone mi hanno chiesto Ma cosa ne pensi Della partita E io Ho detto in live No Ho sempre detto in live La partita È stata brutta Perché non è stata Una grandissima partita Non è stata un partitone Però È stata una partita brutta Perché i Lakers Hanno giocato Così male Se voi prendete Solo Se voi togliete Le maglie Le maglie bianche Dei Lakers Ok Mettete il filtro Antibianco E mettete solamente Tenete solamente In campo Le maglie nere Dei Suns E vedete solamente I Suns Come hanno giocato I Suns Hanno fatto Una partita Della madonna Solo che I Lakers Hanno giocato Talmente 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 male Che sono riusciti A rovinare La grandissima prestazione Dei Suns Si parla più Della pessima Partita Dei Lakers Rispetto al partitone Dei Phoenix Suns Partitone Di Bridges In marcatura Su Lebron Di Crowder Che si è preso Davis Di Booker Che ha giocato Una fase offensiva Ragazzi con due o tre canestre Onestamente Da grandissimo giocatore Qual è? Ma non lo scopriamo oggi Ha fatto anche due o tre passaggi Decisamente Che qualche anno fa Non accadevano Ma c'è la mano Secondo me Di un certo signore Che adesso ci arrivo Un Hayton Che ha zittito le critiche In toto E adesso arriviamo Signori Arriviamo a lui A Christopher Emanuel Avete presente No? Allora Christopher Emanuel In campo nel primo quarto Fino all'infortunio No? Fino al problema Ma con la spalla Partita in ghiaccio Per i Suns Partita Facile facile Dominio Assurdo Dei Suns Si fa male Chris Paul Alla spalla Esce Valegli Spogliatoi I Suns Si sono Sciolti Hanno avuto Due minuti Di Orrore Sembravano tornati Al tempo del tanking Veramente Sembravano tornati A qualche anno fa Due minuti Di un orrore Incredibile Rientrano i Lakers Senza Chris Paul Nei paraggi Torna Chris Paul Dagli Spogliatoi Non entra subito Rimane un po' in panchina I Suns Tornano a macinare Rientra in campo Chris Paul Si vede Che giocava uno all'ora Palleggiava solo con la sinistra Non bene No? Comunque Suns avanti Terzo quarto Torna negli Spogliatoi Perché non Pare che non ce la faccia Deve medicarsi Non ce la fa Esce Parziale Lakers Appena andato In Spogliatoi Parziale Lakers Torna Chris Paul Si rifà vedere Suns che non si sono mai più voltati indietro Cioè Questo qua Ha Solo con la presenza Che non è quella presenza Ma è la presenza Spirituale Non quella corporea Anche corporea Però Con la presenza Solo la sua presenza In panchina Questi hanno giocato A pallacanestro Appena Chris Paul Si allontanava Che spariva Dalla vista Dei giocatori I Suns Si scioglievano Letteralmente Si scioglievano E questa leadership Questo tipo di leadership Dove Solo la tua presenza In panchina Fa tornare una squadra A giocare A pallacanestro Io onestamente Non l'ho mai vista Voi potete dirmi Quello che volete Ma una leadership Del genere Non l'ho mai Vista Prima Un giocatore Che in campo La spiega E continua a spiegarla Va in panchina E la spiega Dalla panchina Cioè ragazzi Che cazzo vogliamo dire E lo ripeto Lo ribadisco Se i Lakers Da tifoso Devono uscire Con qualcuno Piuttosto Escano Contro i Suns Perché voglio dire Christopher E Manuel Almeno alle finali Di conference Perché secondo me Questi Suns Se battono i Lakers Hanno le potenzialità Di andare Sicuramente battono Denver Perché Denver È troppo corto È troppo Jokic Dipendente Dipende da Eiton Se i Suns Passassero Passeranno Contro i Lakers Eiton è la chiave Contro Denver Perché se Eiton Argina Jokic Non c'è una serie Se Eiton è un telepass Abbiamo una serie Però A parte questo Quindi Se proprio i Lakers Devono perdere Perdano Contro i Suns E cosa devo dire Della partita Di gara 1 C'è stata una partita Bruttissima Veramente Dei Lakers Incommentabile Cosa devo dire Quali analisi Devo fare Della partita Dei Lakers Quali analisi Devo fare Davis Che pareva Il cugino Sbandato Lebron Lebron Che palesemente Al 30% 40% E Abbastanza Svogliato A un certo punto Della partita E gli altri Non sono giocatori Che se quei due Non sono in campo Possono fare la differenza I Lakers Manca un giocatore Che faccia la differenza Dalla panchina Un giocatore Che se Davis C'ha una giornata No Se Lebron C'ha una giornata No C'è lui Che fa la partita O comunque Fa il parziale Che riapre una partita Non è Schroeder Madonna santa Non è KCP Non è Matthews Non è Caruso Non è Drummond Non è Errol Non è Gasol Non è nessuno Manca Un giocatore Che Solido Un sesto uomo Che entra E fa una Una mini differenza Che entra E cambia la partita Che entra E dà una spinta Offensiva Che prima non c'era Perché se i Lakers Non segnano mai Con Lebron e Davis In campo Figuratevi se Lebron e Davis Non giocano Come l'altro ieri Cioè figuratevi se Sono piantati Come la Come gara 1 Cioè veramente E allora lì possiamo Possiamo chiudere Baracche e Burattini Ovviamente Io ho messo Lakers in 6 Perché mi aspettavo Un Lebron Quanto meno In forma O comunque Almeno al 70% Un Davis Che fosse Un giocatore NBA Da massimo salariale E non Uno da 4 su 15 Dal campo Ma anche in difesa Poi passivo Si è fatto mangiare In testa Da Hayton Cioè Hayton Che mangiava in testa A Davis A Davis Manco fosse Il contrario Cioè Il Lakers Gara 1 L'hanno palesemente Bocciata Proprio bocciata Nel senso di Bocce Come dicono in americano Quindi Di Proprio di Fallimento Sons Super partita Adesso per gara 2 Tutto sta In Lebron e Davis Cioè Siamo lì Lebron e Davis Al 100% E Lakers In 6 Secondo me Con Lebron e Davis Al 30 40 50% Sons In 6 Lì Nel senso Non c'è molto altro Molto altro Da dire Niente Comunque Vi faccio vedere Il bracket Completo Quindi Questa era la mia Previsione Con i Lakers Campione NBA In 6 Contro i Nets Ovviamente Vacilla Molto Questa Previsione Ovviamente Dopo gara 1 Vorrei cambiare Quella Prevision Però vabbè Insomma È ancora lunga Questi sono i risultati Completi Di tutto Il playoff Bracket Mio Quindi Vado all in Con la chance Con la fortuna E con il E con il culo Niente Fatemi sapere Cosa hai pensato Allora Almeno di questo Almeno di questo Bracket Per quanto riguarda La prima serie di playoff Se Voi avete Dei risultati Differenti Al primo turno Fatemelo Fatemelo sapere Come avete visto Queste gare 1 Se avete qualcosa Da aggiungere A quello che ho detto Se volete Fare un'analisi vostra Molto benvenga Io adesso Sono qua a Miluoki Come vi ho detto Ma Vabbè Adesso Finita la pacchia Perché adesso Si va a giocare a Miami Quindi mi trasferisco Nuovamente Dove sarò la prossima volta Ve lo dirò nel prossimo video Io vi ringrazio Vi saluto Ci vediamo Un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.